Mi permetto di invitarvi a considerare bene la possibilità di partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa. Oggi sua Beatitudine Tual ha fatto un appello che giungerà, credo, nelle vostre case attraverso i mezzi di comunicazione specifico alla Chiesa di Milano per questa visita, dando le ragioni e i motivi della grande importanza per loro di un gesto di questo genere, non tanto importanza economica, ma di solidarietà profonda al Venerdì Santo di cui Gerusalemme permanente vive e di cui le terre del Medio Oriente hanno esperienza quotidiana nel dramma dei nostri fratelli. Considerate con serietà questa possibilità. Anche le parrocchie devono tendere almeno una volta all'anno a mettere il tutto prima della parte. Questo è uno dei difetti di fondo delle Chiese europee. Non è così in Africa e neanche nelle chiese asiatiche, ma nelle chiese ricche, nelle chiese in cui l'individualismo narcisista, che in questa epoca sta trovando una nuova forma, costituisce un tarlo che se lasciamo ancora penetrare senza gli occhi della speranza nel Dio che ci salva e senza la sequela dei santi, potrebbe diventare alla lunga, salvo restando la potenza dello spirito invincibile.